Da Webidoo Store puoi scoprire le ultime novità sulla mobilità elettrica provare device innovativi per la tua casa testare accessori di smart fitness di ultima generazione giocare con le nostre console valorizzare i tuoi contenuti foto e video insomma entrare a contatto con le ultime innovazioni tecnologiche e tutto quello che vedi qui puoi noleggiarlo per un breve periodo a casa tua o ovunque ti voglia